Vengo dal profit dove ho lavorato per quasi vent'anni. Da alcuni anni ho cominciato a lavorare con il non profit e mi sono innamorato di questo mondo. E' importante essere qua per comprendere come lavorano gli altri, come si approcciano nelle contaminazioni tra il mondo profit e quello non profit e come è possibile sviluppare nuove aree di business sociale nei nostri territori vedendo quello che fanno gli altri. CGM per me è un mondo nuovo, un mondo innovativo, un mondo che cresce e da cui imparare.